Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, benvenuti alla conferenza di presentazione di Michele Di Gregorio. Passo prima la parola a lui per un breve intervento. Buongiorno a tutti, ci tenevo prima di iniziare a ringraziare tutta la società del Monza e colgo l'occasione per fare gli auguri al dottor Galiani che oggi compie 80 anni. Bene, grazie. Passiamo alla prima domanda, la nostra piattaforma e poi proseguiamo con gli altri giornalisti. Come sempre vi prego di presentare voi e la vostra testata, prego. Ciao Michele, Andrea Besenzoni, Juventus.com Il giorno che sei arrivato la prima cosa che ti chiedemmo furono le tue impressioni, come stavi, cosa sentivi. Ti rifaccio la stessa domanda, adesso che sono passati dei giorni, hai lavorato al training camp, come va? No, le sensazioni sono quelle del primo giorno. Tutti i giorni sembra il primo giorno, tutto davvero bellissimo. Come avevo detto quel giorno le strutture, poi in questi giorni ho avuto anche modo di provarle, vederle in prima persona. E' tutto veramente stupendo. Ciao Michele, Marco Boviceli di Sky. Volevo chiederti, sei stato accostato prima di arrivare a Juventus anche ad altri club. La scelta Juventus la stai spiegando adesso, le prime impressioni che hai avuto. Però ti chiedo, cosa ti ha spinto a venire alla Juventus? Ma dal momento che è finito il campionato ho parlato con il direttore, con Giuntoli e non ho più pensato a nessun'altra soluzione o nessun'altra squadra. Ho dato la mia parola e quella ho mantenuto. Ciao Giovanni Albanese Sport Italia. Il tuo è un percorso particolare, hai fatto diversi anni nelle categorie inferiori, hai fatto una bella scalata, sei arrivato in massima serie anche in età matura. Ti chiedo qual è stato il valore principale che ti ha consentito negli anni di maturare, di crescere e meritare poi il livello successivo fino ad arrivare a questo palcoscenico importante. Grazie. Io penso, come hai detto tu, di aver fatto un percorso dal basso. Mi ha sicuramente aiutato giocare, giocare tanto, sbagliare, commettere errori, lavorarci sopra. Quindi ti dico, secondo me il lavoro, la costanza mi ha portato oggi a essere qui. Sono orgoglioso, molto orgoglioso di essere qui. Buongiorno, con il tuo arrivo alla Juventus si può riannodare il filo della tradizione dei portieri italiani. Zoff, Tacconi, Peruzzi, eccetera. Questo ci pensi, ti rende orgoglioso, è un motivo a cui in questi giorni, nel momento della scissione, hai pensato a questo aspetto. Sì, sicuramente la storia parla in generale, ma anche per i portieri. La Juventus ha sempre avuto portieri di livello mondiale e per me è bellissimo poter essere qua. E come ho detto, appunto, mi sento molto orgoglioso di essere qui, anche per questo motivo. Ciao, Marco Venditti, signora Mia Calcio News. Ciao. Ci sono stati molti portieri importanti nella Juventus. A te dov'è che piacerebbe collocarti, questi mostri sacri che ci sono stati? La domanda del precedente che mi ha anticipato un attimo. Dove vorresti collocarti tra questi grandi portieri? E poi, ovviamente, quali sono le tue ambizioni in questa squadra? Grazie. Sono due domande, ma forse si racchiudono tutte in una. Le mie ambizioni è lasciare qualcosa, come hanno fatto questi portieri di cui stiamo parlando. Forse per struttura fisica, ricordo un po' Peruzzi, forse. Però, non lo so, sarà il tempo, poi ce lo dirà. Però l'obiettivo sicuramente è fare il massimo, continuare a crescere, continuare a migliorare e togliermi dalle soddisfazioni. Buongiorno, Alberto Mauro Messaggero, Juventus News 24. La Juve ha avuto una tradizione lunga e importante di portieri azzurri che hanno fatto la storia della Juve e anche la storia della nazionale. Volevo chiederti se pensi di poter diventare, tra un po', magari in futuro, a questo livello, fare poi la storia della Juventus e anche della nazionale italiana. Grazie. Sicuramente quando sono arrivato qua, dal primo giorno in cui sono arrivato qua, l'obiettivo è quello, cercare di dare il massimo, cercare di crescere, ritogliermi delle soddisfazioni. Sicuramente la nazionale è un obiettivo, lasciare il segno alla Juve è un obiettivo. Quindi ci penso. So che è un percorso dove servirà tanto lavoro, tanto sacrificio, però so che sono nel posto giusto per poterlo fare. Buon pomeriggio di Gregorio, Simone Nasso, oggi Sport Notizia. La storia di Tiago Motta ci dice che è un allenatore che vuole portieri particolarmente e tecnici per poterli coinvolgere attivamente nella manovra di gioco e nella costruzione dal basso. Ti chiedo se il mister sta insistendo molto anche con te su questo aspetto e quanto credi sia importante nel cosiddetto calcio moderno avere un portiere che con i piedi possa quasi diventare una sorta di giocatore di movimento aggiunto. Grazie. Sicuramente il mister non ci chiede cose chissà strane, nel senso ci chiede di essere partecipi, di avere personalità, di partecipare alla manovra e credo che sia importante, sì, perché il calcio è cambiato e tutti noi portieri ci stiamo allenando per cercare di essere più utili possibile alla manovra e alle richieste del mister. Buongiorno Antonio Paolino, Radio Bianconera. Chi nasce portiere si sente portiere, allora le chiedo, ti chiedo, se mi posso permettere, il portiere che ruolo è oggi nel 2024, come lo concepivi quando eri ragazzo, come lo concepisci oggi e ti chiedo spudoratamente se ti senti tutelato per sentirti il portiere titolare della Juventus alla prima giornata di campionato e com'è il tuo rapporto con Perin e con gli altri portieri della Rosa, grazie. Ok. La stessa. Allora, sicuramente come appena detto il calcio è cambiato, siamo molto più coinvolti e a me è un aspetto che piace, sicuramente. Ci si deve arrivare con il lavoro, perché non è semplice, rispetto al passato dire a un portiere di partecipare anche con i piedi, essere bravo tecnicamente, però credo fermamente che con il lavoro qualsiasi cosa poi si possa fare. Per quanto riguarda il mio rapporto con gli altri portieri è stato dal primo giorno molto bello, ci siamo trovati subito, anche perché forse un po' ci conoscevamo già prima, anche da avversari comunque qualche chiacchiera, un saluto, si scambia sempre con i portieri delle altre squadre, quindi è un bellissimo rapporto, stiamo lavorando bene da gruppo portieri, e quindi secondo me è la grande e quindi sono contento anche di questo. Ma io sono venuto qua per dare il massimo, per me è una grandissima occasione e darò tutto me stesso per mettermi a disposizione del mister al massimo delle mie potenzialità. Buongiorno, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. La Juve spera di aver trovato in lei un nuovo Peruzzi, anche come ha detto lei per struttura fisica, che è stato il portiere dell'ultima Champions. Lei però nell'immediato sarà il successore di Cesni, che è stato il portiere degli ultimi scudetti. Qual è la pressione più grande? L'accostamento con Cesni o la successione di Cesni o l'accostamento con Peruzzi? Ma no, secondo me già sapere di venire qua deve darti una consapevolezza che le pressioni ci saranno, ma è la parte bella di questo sport, di questo mondo, ed è la cosa che mi spinge tutti i giorni a migliorarmi e a cercare di essere il meglio possibile. Prima che tu arrivassi alla Juventus, Buffon ha parlato molto bene di te, ha detto che negli ultimi due stagioni sei stato uno dei migliori portieri della Serie A. Secondo Buffon ha sempre un occhio di riguardo per i portieri italiani, sapendo che tu arrivavi alla Juventus volevo capire se ti aveva chiamato, ti aveva dato in bocca al lupo, ti aveva dato qualche consiglio. No, non ci siamo sentiti, però io ho sentito le parole che ha detto su di me e inevitabilmente fanno piacere e mi rendono orgoglioso. Sono davvero felice che pensi così di me, lui che è stato il più grande della storia. Benvenuto, Nicola Gallo, Gruppo Mediapason. Hai ricevuto il premio di miglior portiere su questo campo, sei stato accolto con un'ovazione perché si vociferava già di un affare in chiusura. Volevo sapere se allora eri già un giocatore sostanzialmente della Juventus per i mesi a venire, oppure no. E poi volevo chiederti anch'io della pressione, allora la ribalto e ti chiedo, avevi un idolo da bambino? Allora, per la premiazione sì, è stato un giorno bellissimo perché sono stato premiato ed è stato il raggiungimento comunque di un obiettivo, forse qualcosa che non mi aspettavo nemmeno. L'ovazione sicuramente ha fatto piacere, si dicevano tante cose, si leggevano tante cose, ma dopo quando è finito il campionato io ho avuto modo di sentire il direttore e da lì c'è stata poi l'operazione. E l'altra domanda? Sei un idolo. Allora, un idolo unico, sicuramente crescendo col Mondiale 2006 Buffon, ma poi tanti altri portieri, avevo parlato di Andanovic anche per il suo stile, ma uno in particolare non mi viene in mente. Buongiorno, Maghe Diabuabia, Rai. Parliamo di pressione, di testa. Dal Monza, che è lotta per non retrocedere, o comunque per un buon piazzamento, alla Juventus, che ha nel suo DNA appunto la sfida per la vittoria. Quest'anno si giocherà per lo Scudetto, per la Champions League, questo sogno che ha legge ormai da anni. Volevo sapere lo scatto psicologico in un portiere che arriva da una gavetta lunga, in una società che ha la necessità di vincere subito e vedere giocatori pronti, attivi, fin dal primo minuto? Sì, come già detto, le pressioni, le aspettative, sono la cosa che poi rende bello il nostro mestiere, quello che facciamo quotidianamente, cercando di spingerci a dare sempre il massimo, a migliorarsi, a farsi trovare pronti. Sicuramente vengo da una realtà diversa, ma che comunque ha delle pressioni, anche se diverse. Io mi ricordo il primo giorno, la mia prima partita in Serie A e sicuramente c'erano pressioni. Secondo me l'aver fatto gli step mi ha portato a prepararmi mentalmente. Adesso mi rendo conto e so benissimo di essere in un club che ha delle ambizioni molto alte e sto lavorando anche a livello mentale per questo e spero di farmi trovare pronto quando ci sarà bisogno. Buon pomeriggio, Camillo Di Michelis, tutto il mercato web e tutto Juve. Volevo sapere che gruppo ha trovato e quanto è stato importante il ritiro in Germania per cercare di mettere sia benzina nelle gambe che proprio unirsi come squadra. Forse ti dico, non avevo mai trovato un gruppo così già dal primo giorno. Infatti dal primo giorno in cui sono arrivato mi sono subito sentito accolto, mi sono subito sentito a mio agio. ho trovato un gruppo che lavorava veramente tanto, forte, con una mentalità importante. L'altra domanda era? Quanto è stato importante? La Germania, sì. Guarda, secondo me ci è servita tanto anche a livello di gruppo per poter stare insieme e passare appunto del tempo insieme e conoscerci non solo in campo ma anche fuori. Quindi credo che sia stata una bella settimana e anche in una struttura molto bella. Abbiamo fatto anche delle esperienze quindi è veramente stata una settimana bella. Buon pomeriggio di Gregorio, Cristiano Corbo, calciomercato.com Quanto ti senti distante dai top del ruolo? Si parlava di nazionale, quindi di Donnarumma, aggiungo anche Courtois, insomma i migliori al mondo. Ti senti distante? Quanto? Grazie. Ma credo che oltre tutte le parole e quello che si sente dire poi ci sia una prova del 9 e quella del campo e quindi sto cercando di lavorare come ho già detto al massimo per farmi trovare pronto e poi tireremo le somme. Marina Salvetti, Tutto Sport volevo chiederti ma questa maglia tu hai fatto solo un amichevole pesa veramente questa maglia della Juventus? Sì, pesa sicuramente sicuramente pesa perché perché c'è una storia perché c'è ambizione perché perché ci si aspetta sempre tanto dai giocatori della Juve come è normale che sia un club storico e quindi è giusto che ci sia tutto questo ed è giusto anche che che sentiamo questa questa pressione come se così vogliamo chiamarla per cercare di spingerci al massimo e fare il nostro meglio. Ultima domanda. Buongiorno Filippo buonsignore Corriere dello Sport ti chiedo hai parlato di obiettivi personali ma spostandoci a livello di squadra nello spogliatoio avete parlato magari tra di voi su quali devono essere i traguardi della stagione su dove dovete arrivare e dove può arrivare anche questa squadra grazie. No, non abbiamo parlato così nel dettaglio però sappiamo tutti che vogliamo fare il massimo il massimo di noi stessi e poi il massimo per il gruppo e così facendo credo che ci potremo togliere delle soddisfazioni. Bene, grazie chiamo come sempre come da tradizione qui al desk il nostro managing director football Cristiano Giuntoli per una foto opportunity per un attimo per un attimo fissi grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti